La rimborsata di saccare il tiro... Tiro! Campionati! Tiro! 23! 5 minuti! Solito a Milano in Piazze e gli ammigatari! 0-0, il parziale, 5 minuti di recupero. Si andrà avanti fino al cinquantesimo per effetto dei cinque concessi. Attenzione al tiro. Ha segnato la Macedonia del Nord. Ha segnato la Macedonia del Nord. Ha segnato la Macedonia del Nord. Incredibile. Harry, spegni la sveglia. Quindi 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6... Manca una cosa. Tatti! 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 il mio capitano gioca bene. Però hai avutoieważne! Let's go! Pacco segreto? Orange! Quando è ora? Chi sono? Un collo Guarda ragazzi, l'abbiamo riportato in Italia Quindi signori, l'ultimo step Ormai ci siamo No, verso l'alto Ma questi qua sono i nostri? Questi qua sono i nostri? Stresi, i grandi fossili Abbiamo due peronari, i ciasi si sono andati e io mi sono sopravvati Ragazzi ho preso il banana bread C'è questo dolce qua Va bene, non è male, dai Atterraggio, siamo arrivati Arrivati i tifosi del Marocco Diego, Diego Ragazzi siamo arrivati Doha finalmente dopo 5 ore di viaggio E' stata invasa dagli italiani dall'Italia Mancava una nazione, questo mondiale L'hanno portato noi In quel giro ne siamo però Il girone dell'inferno No ma ricordate, quattro stelle Quattro stelle State muti Non come altri che sono qualificati Immeritatamente Abdul, can you say ciao Elites? Ciao Elites Abdul sarà il nostro compagno di hotel E quindi ragazzi siamo pronti Forza Italia Forza Italia, giusto? Chi va a vincere questa World Cup? E' me E' me E' me Bravo Ok ragazzi abbiamo anche la Swing Bull e il gym Andiamo a vedere Ecco qua la palestra Dove non ci andremo neanche mezza volta Oh my god Aiutalo Oh aiutatemi una mano Adela mano a Abdul Abdul, hai una ragazza o no? No No? Ok Quando vuoi unire in il nostro spazio con le ragazze E' perfetto per noi Ok 5, 5, 5 Give me 5 Abdul, give me 5 Henry Quanti kg è? 630 Ok, facciamo 100 testa qua 115 Con il da e il santo Ah, gli zaini Sono 5 e 6 kini Antonio, Messi e Ronaldo Lozano No, Boats Eccoci qua 5, 0, 3 Why you? 903 Si vede che l'hanno 15 Sì E lecca la parete Vai Abdu, this is the room? Yes, this is Perfetto Prego, Andrea Ok Ecco ragazzi il nostro appartamento che ci accompagnerà per un mese In Ville Lins Abdu, aspetta, aspetta, diamo una mano a Abdul Oh, diamo una mano a Abdul Cazzi me ne fotte la stanza Bene ragazzi Benvenuti in casa Lins Come vedete Qui è la nostra cucina Dove non c'è la cucina Dove all'interno Del frigo Non c'è nulla Ma c'è qua, va a vedere qua Cosa c'è Il qua va andrà a vedere Eh, facciamo del tutto Cosa c'è Bene ragazzi Benvenuti in qua Ma guarda come vede il muorto Vede il muorto? Sì Questa è la kitchen Sala di nuovo Perché c'è la lavanderia in cucina? Eh, ma questo si usa E abbiamo la lavatrice Sì, ma in cucina Sì, ma venite La ripostiamo? Ma perché abbiamo tretti rigolite Dividete qua Voi vuoti Ovviamente Fornelli Che non lo saremo mai No Con sicurezza Andiamo a vedere qui E' la stessa cucina Perché? 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 Madonna p***a E fa il video E monta te Vede tutto il gioio Allora Rivalriamo per la host tour Signori Andiamo avanti No, vedete qua E state zitti Entrate e state zitti Ah, ma questo è tipo Ssh, ssh Guarda Non è la luce? No, è il condizionatore È anche Il condizionatore? Sì, è fuori Sì, è fuori Questo è il condizionatore Comunque Questa è la prima camera La camera A Poi andiamo di qua C'è la camera B Che cambia niente È la camera più bella E la camera C Oh, guarda qui ci sono Un bagno Tre bagnini di B1 Secondo bagno Secondo bagno Guarda Secondo E poi andiamo La camera C Che è quella di più settati Signori Che ci sta per? Per carletto No Per tritano Ultima stanza Forse la più importante Dove magari vedrete Un po' più di cose La stanza È il soggiorno Praticamente C'è il ferro d'astino C'è il condizionatore C'è una finestra C'è una televisione LG E anche fortunatamente E vai Nel tuo capelli Stendini Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Quindi avete visto Che siamo arrivati A Doha Abbiamo potuto vedere La casa Tutto quanto Nei prossimi giorni Ovviamente Vedete tantissimi contenuti Sui nostri dimmi Sì perché Perché avete lasciato 100.000 mi piace Esattamente Non le rispettiamo Le promesse Anche se Sono già in Italia Noi comunque vediamo Saremo qui Per tutto il periodo Sì Sì Ragazzi lasciate un bel mi piace Iscrivetevi ad Elix E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.